Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 31 dicembre 2021 e questa notte anche il 2021 se ne andrà quindi facciamo subito gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, il sole questa mattina sorge alle 7.40 e tramonta alle 16.41 e vediamo qual è il santo del giorno di oggi ma è un santo molto noto perché è sempre associato all'ultimo giorno dell'anno, anzi diciamo meglio all'ultima notte dell'anno tanto che la notte del 31 dicembre si chiama la notte di San Silvestro. San Silvestro era un papa, guidò la chiesa nel periodo post costantiniano, convocò due concili, quello di Arles in Francia contro le eresie dei donatisti e quello più famoso di Nocea contro le tesi degli ariani. A Roma edificò otto basiliche favorendo la risalita della chiesa dalle catacombe in superficie e da allora la chiesa si sparse così apertamente in tutto il mondo. Ecco dunque San Silvestro. Le notizie di oggi le leggiamo sul Corriere Adriatico, vediamo subito la pagina di Fano dove si apre con una notizia che riguarda un po' la conclusione dell'anno. Non è una conclusione piacevole perché la pandemia impera e dobbiamo fare dei sacrifici. Cene annullate, strutture chiuse, crisi, alberghi e un lungo inverno. La disamina del presidente Cecchini. Vivi grazie a qualche iniziativa sportiva ma non basta, ovvero l'economia sta languendo. L'economia del turismo, le vacanze invernali, le vacanze natalizie avrebbero dovuto così dare un impulso all'attività economica del turismo. In realtà non è così perché gli alberghi sono quasi vuoti, a parte qualche iniziativa sportiva che ha così rimpinguato gli arrivi e le presenze. Si tratta del torneo internazionale di volley che si è concluso l'altro giorno con le premiazioni. Si tratta della randonnée ciclistica che avrà luogo il 6 gennaio prossimo e si tratta anche del premio delle bocce che si è svolto pochi giorni fa al Teatro della Fortuna di Fano con grandi presenze anche a livello nazionale. Comunque la situazione non è piacevole, non è quanto ci aspettavamo, ha detto Cecchini. Probabilmente c'eravamo illusi che la pandemia si stesse attenuando. Purtroppo non è così. Ormai non ci resta che sperare nella prossima estate, quando poi il tempo sarà la migliore cura per quanto riguarda il Covid. Vaccini e tamponi, overdose di impegni per il Club Mattei. Questo club, che è il portabandiera della protezione civile fanese, ha dato ieri un consuntivo, ha fornito ieri un consuntivo della sua attività, un'attività impegnativa, intensa, che ha così occupato tutto l'anno e si è concluso con un grande impegno sul fronte della sanità. Protezione civile, che hanno per 45 volontari giornalieri tra bombe, allegamenti e appunto il Covid. Un anno veramente impegnativo per il club. Carnevale e hospice, zero fondi. La giunta regionale ignora Fano. Si è discusso anche con una grande maratona, lunghe ore di discussione di confronto in Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio. Ma Fano è stata bistrattata, è stata quasi ignorata. Ebbene non ci sono risorse per la realizzazione dell'ospes pediatrico. Si deve ristrutturare l'ospedaletto dei bambini, servono 4 milioni, ma queste risorse non ci sono a bilancio. E sembra che non ci siano nemmeno soldi per il Carnevale, che la Regione ha riconosciuto, la Regione stessa ha riconosciuto come una delle manifestazioni leader, portabandiera, per la promozione a livello territoriale. Bilancio preventivo, scintille a Palazzo Raffaello. La portavoce della minoranza, ha letto lei la presa di posizione dell'opposizione, Marta Ruggeri, emendamento bocciato e quindi le critiche della consigliera. Alla Memoteca, nuovi orari e apertura tutti i giorni. Cambia l'orario della Memoteca, della Mediateca Montanari. Un orario più razionale, sarà aperto tutti i giorni, è abolito il giorno di chiusura del lunedì e ci sarà più coerenza anche per le aperture. Nei primi tre giorni della settimana vediamo che la Mediateca sarà aperta dalle ore 12 alle ore 19, dal giovedì al sabato invece dalle 10 alle 19, la domenica dalle 15 alle 19. Non ci sono più orari sfalzati, di modo che la gente non capiva più se la Mediateca era aperta o chiusa. Ora in avanti, insomma, si ha un aspetto più organico, più razionale. A Fossombrone, sacchi di rifiuti gettati sui tetti. Setti ribelli viene bersagliato. E i giornali questa mattina evidenziano diversi episodi fatti dai vandali. A Fossombrone, ma anche a Fano, lo vediamo dopo, la baby gang di Fossombrone ancora in azione e ha mandato in esasperazione i residenti. Sacchi di immondizia scaraventati addirittura sui tetti. L'anno si chiude Fossombrone con un primato negativo più unico che raro. E dopo aver divelto cassette della posta, ha battuto sportelli a protezione dei contatori di acqua o gas, preso a calci i portoni, disintegrato contenitori della raccolta differenziata. Insomma, non c'è alcun rispetto per i beni pubblici, in modo a quelli poi che servono appunto per condurre una vita sociale, normale, di tutta la comunità. Ebbene, questo gruppo di ragazzi ha compiuto delle azioni che ormai non occorre più chiamarle bravate. Sono veri e propri atti delinquenziali. Gidiamo ancora la pagina e vediamo sulla Val Cesano, un articolo che riguarda San Costanzo. Ebbene, a San Costanzo il sindaco ha aumentato di poco, però le ha aumentate le tasse. L'IRPEF, l'aumento era necessario, dichiara il vice sindaco Ciani, che spiega con Aspes che stiamo ricontrollando le metrature delle aziende per l'Atari e cercare ovviamente gli evasori. Pesa 30 euro in più all'anno a famiglia questo aumento. Non è molto. Ma se lo associamo a tutti gli altri aumenti, che stamattina i giornali, quelli a carattere nazionale, parlano diffusamente degli aumenti, delle bollette del gas e della luce, e vediamo poi come l'onere fiscale, l'onere anche delle bollette, si fa molto pesante sulle spalle dei contribuenti. Baldelli senza cuore per gli anziani, solo cattiveria politica, un duro attacco della sindaca di Pergola. C'era il CDA di Aspe da votare, ma non si sono presentati. Ebbene, la mancanza in consiglio della opposizione ha reso impossibile la nomina del consiglio d'amministrazione appunto della casa per gli anziani e questo ha creato disagio. Vediamo ancora sul Corriere Adriatico, sulla pagina di Pesaro, vediamo subito il problema della sanità. Martedì arriva la pillola anti-Covid, una task force per riaprire le scuole. L'assessore regionale alla sanità, Salta Martini, che parla oggi sulla stampa, e dice che l'antivirale orale è il Remdesivir per le cure a domicilio, test rapidi per la fascia 5-11 anni, l'ipotesi del governo, zero quarantena ai ragazzi vaccinati. E questa tabella pubblica appunto le nuove regole della quarantena in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Cosa succede a chi ha avuto un contatto con un positivo? Se è stato vaccinato con tre dosi, guarito o con richiamo da almeno di 120 giorni, non deve osservare nessuna quarantena, scatta solo l'autosorveglianza, cioè ognuno deve guardare se stesso come si sente. Fino al decimo giorno, dopo l'ultima esposizione, mascherina FFP2 e test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno. Solo questo per i sintomatici. Se invece è un vaccinato da più di quattro mesi, deve osservare cinque giorni di quarantena e un tampone finale. Per i non vaccinati, invece, i giorni di quarantena passano a dieci. Per capodanno, casa o ristorante, ma saranno vietati i balli. Le regole per il cenone, attenti al distanziamento, mascherine quando ci si alza da tavola nei locali. Sono solo alcune delle precauzioni. Qui abbiamo alcune delle domande e alcune delle risposte per quanto riguarda i comportamenti da osservare in osservanza alle norme anti-Covid. Vediamo che, nonostante l'aumento dei contagi, anche nelle marche stasera si può andare al ristorante per il tradizionale cenone di San Silvestro. Sì, lo si può fare, ma con le dovute precauzioni. Palace. Una nuova gara d'appalto per completarlo, il vecchio e glorioso Palace di Pesaro, che dovrà servire anche per il ROF. Adesso l'amministrazione comunale spera di poterlo inaugurare entro l'anno incipiente, ovvero il 2022. Va meglio sul fronte dell'Interquartieri, che sarà intitolata Berlinguer. Il sindaco Matteo Ricci ha annunciato agli stati generali di mid-term per il 15 gennaio. Si aggiorna il programma di lavoro alla luce di due questioni fondamentali, ovvero il Covid e le risorse che arriveranno per il PNRR. La squadra di Ricci rigenerata dovrà avere gli occhi della tigre. E questa è l'espressione che il sindaco Ricci ha usato, ha espresso, nel momento in cui ha presentato la nuova giunta oggetto di un rimpasto appunto nei giorni scorsi. La nuova giunta rimpastata dare tutti noi stessi a servizio di una comunità che deve combattere e al tempo stesso rigenerarsi. Ecco perché insomma ha usato l'espressione degli occhi della tigre. A cominciare dalle new entry, dice Ricci, Luca Pandolfi che appartiene alla lista civica dello stesso Ricci Forza Pesaro e Camilla Murgia entrata nel PD dopo essere stata nella lista di Belloni. Poi vediamo che i due stanno subentrando, sono subentrati invece alla Democrat Sara Mengucci e a Giuliana Ceccarelli ringraziate dal primo cittadino per il lavoro svolto. Pandolfi si occuperà del welfare, settore che nella nostra città rappresenta un patrimonio storico e culturale dice Ricci. Ha fatto gavetta prima nel quartiere poi nel consiglio comunale e si è impegnato molto in questi anni. La quota rosa in entrata è quella che appartiene a Camilla Muggia insegnante di professione. Anche lei ha detto il sindaco si è mossa molto bene in questo periodo in consiglio comunale. Raccoglie una eredità pesante quella delle politiche educative come ha riconosciuto lo stesso sindaco. Insomma non sarebbe facile sostituire Giuliana Ceccarelli. Marche Nord e Regione basta con i primari contro e vediamo ancora una dichiarazione sempre del sindaco Matteo Ricci il quale si esprime sulla sanità e si pone dalla parte del primario del pronto soccorso di Pesaro Gnudi. Come sindaco ha detto Ricci continua a ricevere lamentele e sul nuovo ospedale chiama Quaroli e Saltamartini a parlare di contenuti. Il sindaco dunque Matteo Ricci nel corso della conferenza di fine anno si è soffermato sul tema della sanità. Gnudi aveva lanciato diversi messaggi di sofferenza. Gnudi non ha esagerato ha detto Ricci ha raccontato in maniera esasperata la situazione. Per noi l'azienda ospedaliera Marche Nord rimane fondamentale ha detto Ricci ora servono professionisti importanti per qualificare la struttura. Parliamo di 400 posti modulabili non era quello che volevamo ma da qui si parte e vogliamo conoscere il crono programma degli interventi della giunta regionale. Marcia indietro chiude il reparto Covid ad Urbino operatori disorientati idem vanno all'attacco. Ha chiuso il reparto Covid di Urbino appena dopo sette giorni di cui era stato riaperto retromarcia dunque repentina della regione. L'area con 10-12 posti letto resta in grado di riaprire e operare in qualsiasi momento se appunto capita l'emergenza ma da oggi i pazienti positivi saranno solo appoggiati in una nuova zona ricavata all'interno del pronto soccorso in attesa poi di essere trasferiti in altre strutture Covid. Record di vaccini grazie al camper con 20-18 Novax. La notizia si riferisce al provvedimento che è stato assunto a Gabice Mare. A Gabice sono state somministrate 198 dosi 48 in più di quelle previste. Il sindaco a gennaio Lab di Gradara si sposta a Creo Beach insomma vediamo come anche all'estrema periferia della provincia si stanno attuando questi provvedimenti. E qui c'è un caso curioso che evidenzia il Corriere Adriatico. Che cosa è accaduto? Vediamo di mettere meglio il giornale. È accaduto che Roberti Lamberto Roberti che è un personaggio che spesso sale alla ribalta della cronaca accusato di non aver indossato la mascherina e di aver appoggiato la protesta del studente fanese dell'Olivetti di Fano che nel maggio scorso aveva rifiutato di indossare anche lui la mascherina e si era incatenato al banco in classe. Era scattato lo ricordiamo allora il TSO e il giovane era stato ricoverato al reparto psichiatrico di Pesaro ora Roberti è indagato per interruzione di servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità in concorso con il giovane studente ma nel momento in cui ha entrato in tribunale la guardia di servizio gli ha intimato di indossare la mascherina lui si è rifiutato ne è nato un bisticcio e la morale è stata che l'uomo è stato accompagnato fuori dove ha ricevuto anche la multa di 400 euro per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione insomma un episodio movimentato in cui Roberti cercava di fare valere le sue ragioni ma in questo caso non c'è stato verso e poi vediamo che un qui un episodio un atto tradizionale che si svolge ogni ogni inizio di anno nuovo il tuffo di capodanno si farà orari sfalsati a piccoli gruppi a Pesaro il primo gennaio un appuntamento al moletto per tutti coloro che vorranno provare un bagno fuori stagione insomma un bagno fresco per rigenerarsi come si fa nei paesi scandinavi a Vallefoglia anche il sindaco Ucchielli ha fatto la sua conferenza stampa di fine anno va riaperta la guardia medica ha detto il sindaco è potenziata la casa della salute l'appello del sindaco Ucchielli alla regione si fa più pressante non bisogna perdere tempo ha dichiarato il primo cittadino nel 2022 Vallefoglia inaugurerà la nuova sede unica del comune e appunto il sindaco ha annunciato il programma dei lavori grande festa a Durbino per il sindaco invece Maurizio Gambini che si è sposato e a così fare da tre d'ugnon delle nozze è stato il prosindaco Vittorio Sgarbi vediamo qui alcune fotografie pubblicate dal Corriere Adriatico il sindaco Ducale 61 anni si è sposato in comune con l'urbaniese Germana Germana vediamo le fedi portate dalla figlia il critico d'arte ha condotto le nozze con puntuale ironia il rito civile è un atto di sfiducia reciproca ha detto ovviamente con un tono ironico però è l'amore poi che cementa a tutte le età anche a 61 anni ci mancherebbe caspita quindi auguri al sindaco Gambini San Silvestro senza botti i ristoranti aperti fanno sold out le telefonate dei Novax da Roma a caccia di tavoli si può cenare all'aperto uno dei tanti interrogativi che vengono che rimbalzano appunto di ora in ora in questo ultimo giorno dell'anno comunque San Silvestro senza botti diversi sindaci hanno emanato ordinanze che vietano l'uso di botti e questo accade tanto a Urbino quanto a Fano e quanto in altre località quindi un ultimo dell'anno più silenzioso più pacato più modesto e ora vediamo il resto del Carlino a partire dalla pagina di Fano vediamo che appaiono di nuovo i vandali in questa giornata Pincio ci risiamo mutilato il presepe mozzato un braccio al pastore staccate le orecchie alle pecorelle di nuovo immagini delle telecamere al vaglio e la fotografia di questo povero pastore adorante con le braccia alzato mutilato appunto del braccio destro mozzato un braccio al pastore sono episodi inqualificabili che non solo minano la sacralità della sacra rappresentazione ma addirittura minano un po' la sfiducia che la gente nutre nel rispetto delle cose pubbliche nel rispetto di un diritto civile alla convivenza pacifica il braccio mozzato del pastorello adorante ci si interroga se si tratti della stessa gang di giovanissimi responsabili delle precedenti incursioni vandaliche indagini in corso da parte della polizia locale e dobbiamo anche precisare che i vandali dei precedenti atti quelli che hanno così infierito sulla sacra famiglia sono stati individuati sono stati presi insomma erano un minorenne e un maggiorenne e sono stati denunciati alla magistratura variante a Gimarra almeno tre ricorsi al TAR così si finisce l'anno per questa contestata previsione dell'amministrazione comunale sono due cittadini più 11 proprietari di terreni su cui dovrebbero passare la strada si realizzano piuttosto due complanari a nord e a sud hanno detto i cittadini qui vediamo Giorgio Pucci del comitato e a destra in giallo vediamo qui l'itinerario appunto della variante di Gimarra sono almeno dunque tre i ricorsi al TAR uno presentato da 11 cittadini e gli altri due da singoli ricorrenti contro la variante di Gimarra mentre il comitato per la salvaguardia di Travia Arzilla e Gimarra lancia la sua proposta alternativa verso Pesaro l'idea è quella di un'arteria che dalla rotatoria di Belgatto costeggi l'A14 una specie di complanare verso Marotta invece la proposta è sfruttare la strada di mezzo per poi passare a monte o a valle dell'autostrada a Natale si è aperto il grande presepe di palazzo Fabri e le grandi presepe di Don Marco Polverari mille presenze per questa iniziativa ma in epoca pre-Covid ci si arriva solo il giorno di Natale insomma il presepe di San Marco conclude l'anno superando le mille presenze poca cosa rispetto ai numeri degli anni passati ma è molto rispetto appunto alle incombenti norme anti-Covid che limitano un po' gli spostamenti della gente la minoranza affossa la casa di riposo a Pergola l'ira del sindaco l'opposizione diserta il consiglio rende impossibile la nomina del nuovo CDA di questo abbiamo visto anche sul resto del Carlino sul Corriere Adriatico porte aperte alla Mediateca orari estesi sette giorni su sette l'annuncio ieri dell'assessore Mascarin questa è la seconda piazza cittadina e ci sono poche città come Fano che hanno in realtà due grandi strutture bibliotecarie come la Mediateca Montanari e come la Biblioteca Federiciana due grandi strutture che vengono frequentate tantissimo durante l'anno non solo da studenti ma da tanti cittadini da tanti ricercatori che si avvalgono dei documenti costuditi tiriamo ancora la pagina e vediamo ad Urbino un più esteso servizio fotografico per quanto riguarda il matrimonio del sindaco Maurizio Gambini qui lo vediamo sul sagrato del Duomo baci di fronte al municipio per Maurizio Gambini e Germana Melliffi al termine della cerimonia e qui lo scambio degli anelli qui il lancio del riso e dei coriandoli e qui il dono di un olivo che ha fatto appunto il Vittorio Sgarbi che una volta ricevuto alla piantina espone il trofeo Movimento Urbino città ideale traccia il bilancio politico affrontare tutto senza urlare ha dichiarato Maria Sperindei e Lino Micheli ricordano che il gruppo è di nuovo in crescita e poi un altro atto vandalico nei confronti di un presepe si tratta di un presepe che è stato allestito a Frontino rubata la natività dal presepe vandali in azione a Frontino grande sconcerto per il terzo atto consecutivo non è nemmeno la prima volta il sindaco ora facciamo la denuncia così reagito per quanto riguarda invece la pagina di Pesaro vediamo che si parla subito di sanità è l'argomento principe delle prime pagine esodati del Green Pass sono 2500 sms dell'Asur per anticipare la dose in provincia di Pesaro tante sono le persone che dal primo febbraio potrebbero trovarsi scoperte l'azienda sanitaria li contatterà perché possano mettersi in regola Biancani l'assessore regionale ha detto fate anche gli open day per incentivare di più la promozione del vaccino tampone lenticchie il cenone è servito record di richieste delirio nelle farmacie per mettersi in regola sempre più gente in fila prima della festa in questi negozi nelle farmacie comunali 900 test al giorno vanno a ruba anche i kit fai da te e le mascherine ffp2 che sono ormai necessarie per svolgere tante tante incombenze la messa è finita anche senza green pass le parrocchie sono uno dei pochi posti ancora liberi dal certificato insomma si può andare a messa senza tanti documenti i sacerdoti già esistono sufficienti condizioni di sicurezza ovviamente ci vuole almeno la mascherina il papa ha detto che vaccinarsi è un atto di carità e molti no vax non sono più venuti ha dichiarato Don Cernuschi una mamma muore a 30 anni donati gli organi si tratta di Melissa Balducci originaria di Sant'Ippolito lascia purtroppo due bambini di 7 mesi e 5 anni fatale una emorragia cerebrale oggi l'addio un nuovo lutto che rende più tristi appunto le festività che sono non solo ammareggiate dal covid ma anche di tutti gli altri drammi che capitano normalmente come prepararsi in casa un cenone di favola e questo articolo che vediamo così valorizzato da un bel disegno anatra grassata all'arancia ravioli alla nocciola con tartufo bianco e tanti tanti piatti organizzati sia da chef di gran classe sia da massaie esperte nel cucinare le grandi ricette dei cuochi della provincia per chi sceglie di non uscire impaurito dal virus dal pesce ai barchini al tartufo insomma c'è di che sbizzarrirsi e vediamo ancora raffica di disdette però per la serata di San Silvestro ristoratori sull'orlo di una crisi di nervi insomma da una parte qua si incentiva i cenoni che possono essere fatti anche al ristorante e di qua invece si mostra la nuda realtà che è quella delle disdette siamo in conclusione c'è tempo soltanto per una notizia di sport vediamo che cosa accade alla Vis in questo periodo che ormai ci si prepara per le prossime gare Bosco sì la Vis merita uno stadio migliore ha risposto il presidente alle aspettative dei tifosi e per quanto riguarda il fanocalcio Olivieri ha fermato Catalano dichiara lui ha talento il portiere da ieri è granata per la felicità del tecnico e con questo anch'io vi auguro un buon fine anno e un buon inizio per domani tanti auguri grazie per l'ascolto buona giornata grazie 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 a tutti.